Prendi un alimento, un semplice, banale e sottovalutato cibo che definirei povero, povero perché non se lo fila nessuno, anche se c'è in tutti i supermercati e costa solo un paio di euro. Prendi una rivista che fa parte del circuito The Lancet, uno dei più prestigiosi al mondo per quanto riguarda la medicina. Prendi fondi dell'America Cancer Society, non del produttore di questo cibo. Prendi un vivace e brillante gruppo di ricercatori che lavorano presso lo University of Texas Anderson Cancer Center, un ospedale statunitense piuttosto noto nell'ambiente perché focalizzato nella cura del cancro. A questo punto non ti resta che prendere da parte una cinquantina di pazienti obesi con storia di tumore al colon o presenza di polipi rettali e guardandoli negli occhi proporre loro di partecipare a uno studio estremamente semplice. Per otto settimane mangia esattamente come sei abituato a fare. Quindi probabilmente non in modo propriamente corretto, essendoci quantomeno un problema di fondo e di obesità. Passati questi due mesi, aggiungi semplicemente una porzione di... Te lo dico tra poco che cosa. Dicevo, aggiungi una porzione di questo cibo al giorno e per il resto continui a mangiare esattamente come vuoi, come sei abituato. Ovviamente in realtà i ricercatori hanno proceduto a randomizzare i pazienti in due gruppi che si sono alternati nei due mesi, ma guarda, non preoccuparti troppo di questi dettagli. L'ho nominato solo perché serve a farci capire che lo studio è stato ragionevolmente rigoroso. Ebbene, sai cosa scopri? Scopri che bastano solo dei semplici, umili, ingiustamente bistrattati, fagioli, per ottenere dei risultati sorprendenti, eh sì, proprio fagioli, che di solito finiscono relegati a contorno di dubbia qualità nelle mense o associate a spiacevoli effetti collaterali di natura gastrointestinale. Ma attenzione, non stiamo parlando di miracoli, di formule magiche, ma di risultati misurabili. I ricercatori armati di microscopi e provette per le feci, non l'invidio, tanti, un sacco di barattolini per le feci sono serviti. Hanno scoperto che aggiungere una porzione di fagioli al giorno alla dieta di questi pazienti ha portato a cambiamenti nella composizione del microbiota intestinale, ovvero a tutti quei piccoli microrganismi che silenziosamente pasteggiano con i resti del tuo pranzo, cambiamenti che sono stati descritti come positivi perché hanno promosso non solo una maggior varietà delle specie presenti nell'intestino, ma anche una vivace proliferazione di tre gruppi che già solo il nome è tutto un programma. Fecali bacterium, eh? Noto per i suoi effetti anti-infiammatori e il suo ruolo nella salute dell'intestino. Eubacterium, di cui alcune specie sono coinvolte nella fermentazione delle fibre e nella produzione di preziosi acidi grassi a catena corta, sostanze che hanno mostrato di avere ricadute importanti dal punto di vista metabolico. Bifidobacterium, anche loro associate effetti positivi sulla tua salute intestinale. Insomma, sembra davvero che questi legumi abbiano dato una bella scossa ai microbi che abitano nell'intestino di questi pazienti, probabilmente stufi della solita routine alimentare e poco sana. Ma non è finita qui. I fagioli consumati hanno dimostrato di aver avuto un impatto anche sui metaboliti e marcatori infiammatori ematici, ovvero misurati attraverso esami del sangue. Ora, non fraintendermi, non stiamo parlando di una soluzione definitiva per l'obesità, né tantomeno, purtroppo, per prevenire il cancro del colon retto. Sarebbe troppo bello se bastasse mangiare un piattino di fagioli al giorno per risolvere problemi così complessi. Tuttavia, questo studio non solo si somma alla montagna di evidenze già disponibili, ma soprattutto ci ricorda che a volte le soluzioni più semplici possono davvero far la differenza e che non dovremmo sottovalutare il potere di un'alimentazione varia, sana e bilanciata. Guarda, prendi ad esempio il tumore al colon. Questo è in realtà solo l'ultimo studio in ordine di tempo a verificare come i legumi possano efficacemente ridurre il rischio. Pensaci un attimo perché guarda che il risultato è davvero significativo. Se nonostante una probabilmente pessima dieta, quantomeno eccessiva in termini di calorie, l'aggiunta di legumi ha prodotto benefici misurabili, ma pensa potenzialmente quanto possa essere importante, impattante, una dieta che sia nel complesso migliore, magari fortemente incentrata su cereali integrali, legumi, verdura, frutta fresca e aguscio, semi oleosi. La dose di fagioli, se te lo stessi chiedendo, non era nemmeno troppo abbondante, circa 180 grammi al giorno pesati cotti, indicativamente 220 calorie, che poi i pazienti tendevano tra l'altro a compensare riducendo il consumo di altro cibo. Apriamo una parentesi perché è curioso notare, e in effetti è un rilievo che emerge spesso in questi studi, che i partecipanti, a seguito dell'aggiunta dei legumi, adottavano modifiche compensative all'apporto di grassi e carboidrati, mentre le proteine percentualmente rimanevano sostanzialmente stabili. Chiusa parentesi. E se è piuttosto intuitivo comprendere che la sola introduzione di fagioli, grazie alla fibra contenuta, è in grado di selezionare una miglior composizione della flora batterica intestinale, potrebbe essere meno chiaro e immaginare, quindi comprendere i meccanismi che invece li legano i cambiamenti positivi dei marker infiammatori del sangue. Insomma, come fanno dei semplici e umili fagioli, che per inciso erano dei navy bean indicativamente simili ai nostri cannellini, a ridurre da soli l'infiammazione sistemica di tutto il corpo? Beh, probabilmente attraverso numerosi e complementari meccanismi, ad esempio una modulazione nella produzione di alcuni ormoni intestinali, ma tra tutti uno dei meccanismi più studiati è quello che passa attraverso la produzione di acidi grassi a corta catena. In pratica, quando i batteri buoni hanno a disposizione una sufficiente quantità di fibra, si mettono all'opera per fermentarla. Durante questo processo producono acidi grassi a catena corta come il buterrato, il propionato e l'acetato. In altre parole, la fibra presente negli alimenti, tu non sei in grado di digerirla. Ma i batteri intestinali sì. Per ringraziarti di questo dono quotidiano, si prendono la fibra e, dopo averne estratto l'energia che gli serve per sopravvivere, per proliferare allegramente con gli amici, in cambio ti producono sostanze preziose che definiamo come acidi grassi a catena corta. Questi acidi grassi non sono solo un'importante fonte di energia per le cellule dell'intestino. No, no, non solo quello. Ma producono anche effetti antinfiammatori sistemici, vengono cioè assorbiti nel sangue e poi, interagendo con recettori specifici in tutto l'organismo e in varie cellule, modulano lo stato infiammatorio sistemico, ovvero dell'intero organismo. Tiriamo le somme. Alla luce di tutto questo, cosa concludo nei ricercatori? Partiamo dalle due premesse da cui è germogliato lo studio, ovvero, da una parte, un crescente insieme di prove che i batteri presenti nel tuo intestino, che selezioni tutte le volte che scegli un cibo piuttosto che un altro, è strettamente implicato nella genesi della gestione di condizioni cardiometaboliche e tumorali. Dall'altra, sempre da studi precedenti, sappiamo già che alimenti prebiotici come legumi e cereali integrali sono una strategia sicura e accessibile per modellare la composizione batterica del tratto gastrointestinale, che a sua volta, come abbiamo visto, esercita effetti che vanno anche al di là del solo intestino, grazie alla produzione di sostanze come gli acidi grassi a corta catena. Ebbene, questo studio ci ha permesso di dimostrare che la sola aggiunta di una piccola porzione al giorno di fagioli è già sufficiente a determinare un cambiamento misurabile in diversi parametri del corpo e in poche settimane. Oh, a proposito di questo, c'è un ultimo risultato importante di cui non ti ho ancora parlato. Se sono bastate 4-8 settimane per produrre un miglioramento misurabile, purtroppo l'abbandono del consumo di fagioli produce un altrettanto rapido declino dei miglioramenti ottenuti. Bastano infatti, allo stesso identico modo, 4 settimane senza fagioli per vanificare gran parte dei cambiamenti positivi nel tuo microbioma intestinale e anche nei marcatori infiammatori. Sembra quasi che i batteri buoni, come fecali bacterium, che avevano proliferato grazie ai fagioli, abbiano fatto le valigie e se ne siano andati non appena il loro cibo preferito è scomparso dal menù. E con il declino di questi batteri benefici, anche i livelli di metaboliti e marcatori infiammatori del sangue sono purtroppo tornati verso i valori iniziali. Questo risultato sottolinea l'importanza di una costante e di una regolare assunzione di alimenti prebiotici come legumi e cereali integrali per mantenere un microbioma intestinale sano ed equilibrato. Non basta cioè fare una cura di fagioli per qualche settimana e poi tornare alle vecchie abitudini alimentari. Microbioma, a quanto pare, ha una memoria corta e tende quindi a ritornare rapidamente allo stato precedente se non viene costantemente nutrito con i cibi giusti. Quindi, se vuoi godere dei benefici a lungo termine dei fagioli, sia per la tua salute intestinale che per tenere abbada l'infiammazione, devi davvero impegnarti a includerli nella dieta in modo regolare, consistente. Niente pausa o vacanza dai fagioli, insomma. I tuoi batteri intestinali, così come tutto il tuo corpo, ti ringrazierà per la tua dedizione. E se stessi pensando che non li tolleri, ecco come fare. Grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora. Ciao.